Questo programma è offerto da Tecnocampus. Buonasera cari telespettatori di Teleprima e amici di Focus Sanità, eccoci qui ritornati come di consueto ogni lunedì sera dopo un piccolissimo periodo di pausa. Siamo pronti per ritornare qui su Teleprima, vi ricordo anche i streaming su www.teleprima.it e sui social, quindi ci potete seguire davvero ovunque per parlare di tutto ciò che concerne la sanità con degli argomenti poi tematici ovviamente che cambiano di settimana in settimana. Nei nostri studi per la prima volta qui a Teleprima il professore Antonio Ponticello, direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia e fisiopatologia respiratoria dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Buonasera. Buonasera. È davvero un piacere averla con noi per la prima volta poi negli studi di Teleprima. Buonasera. Grazie. Allora, lei a Caserta relativamente da poco, dallo scorso dicembre, parlando prima a microfoni spenti, mi diceva che è nata da Versa, ha studiato però a Napoli e praticamente viene da una lunga gavetta ricca poi di una bellissima carriera e grandi soddisfazioni a Napoli. Beh sì, come tutti in Campania, almeno fino a poco tempo fa, la nostra unica possibilità di laurearci in medicina era legata alla militanza, alla Federico II, alla Sun, la vecchia Sun, oggi si chiama Luigi Ivan Vitelli. Io mi sono iscritto alla Federico II, al cosiddetto nuovo policlinico, ho studiato lì e sono stato molto fortunato, come appunto a microfoni spenti, le dicevo poco fa, perché sono riuscito a realizzare un piccolo sogno. Io sono entrato subito nella scuola di specializzazione di malattie dell'apparato respiratorio, ricordo che di tutte le specialità, ovviamente la Federico II ha tutte le specialità, l'unico reparto che è al di fuori delle mura è appunto quello di malattie dell'apparato respiratorio, che appunto è presente da sempre, è in convenzione da sempre. Quindi dai tempi del professore Monaldi stesso e dei suoi cosiddetti discepoli, appunto nell'ambito delle mura dell'ospedale Monaldi, sempre ritenuto un grande vantaggio questo connubio perché si poteva associare alla capacità di studio, alla determinazione. Tra l'altro è una cosa che devi fare perché all'università devi pubblicare, hai le lezioni, quindi ti devi aggiornare continuamente, dicevo, associato a questa vita, tra virgolette, di docenza, anche quella assistenziale. Sappiamo tutti che il Monaldi per le malattie dell'apparato respiratorio è un punto di riferimento nazionale, comunque sovraregionale con pazienti, e lo dico per esperienza, sono stato 29 anni al Monaldi, da noi quotidianamente afferivano pazienti dalla Basilicata, dalla Puglia, dalla Calabria e da altre regioni. Quindi questo mi ha dato ovviamente la possibilità di lavorare ad un certo livello sulle più comuni malattie dell'apparato respiratorio, dal cancro del polmone alle cosiddette malattie rare, la fibrosi polmonare ad esempio, ed altre, e di fare esperienze in alcuni campi. Quindi nasco inizialmente ed essenzialmente come broncoscopista, poi mi sono spostato su altri campi, come ad esempio la fisiopatologia respiratoria. Ho vinto un dottorato di ricerca, sono stato poi assunto come ricercatore, poi confermato e poi raggiunto la docenza per decreto rettorale, come professore aggregato, da circa dieci anni. Ho retto per tanti anni la pneumologia interventistica, come dicevo, del mio reparto e sono stato responsabile dell'ambulatorio di pneumologia e di fisiopatologia respiratoria. Ad un certo punto è venuta fuori questa opportunità di Caserta, ho sentito parlare molto bene della dirigenza dell'ospedale, di questa grossa volontà di rilancio. È inutile ricordare, sappiamo tutti, che la Orna di Caserta aveva vissuto dei momenti difficili, ma sono stati ampiamente superati, ripeto, dall'attuale dirigenza, che ha avuto la ferma volontà di rilanciare questo ospedale e di dare a questo ospedale il ruolo che merita. Caserta è inserito in un contesto di svariate centinaia di migliaia di utenti. L'ospedale di Caserta, sappiamo, è assalito, in senso, quindi benevole lo direi, ma quotidianamente da tantissime persone che arrivano al pronto soccorso. Ovviamente noi siamo tenuti a dare una mano al pronto soccorso, quindi accogliere questi pazienti, lavorare per loro, ma, ripeto, la dirigenza sta cercando di fare in modo di superare anche questo momento, cercando di determinare il fatto che si possa, oltre all'emergenza e all'urgenza, anche trattare le lezioni. Quindi c'è un progetto molto buono, ci abbiamo creduto in tanti, ci crediamo ancora, perché, come dicevamo prima e come è noto, ci sono stati nell'ultimo anno concorsi per circa 16 primari, questi primari, come me, sono tutti dei colleghi di, non perché voglia dire che io sia di alto livello, ma veniamo tutti da istituzioni di ottimo livello, sicuramente punti di riferimento regionali, Monaldi, Federico II, Cardarelli e così via, gli ospedali napoletani hanno tutti un grosso livello di expertise, e molti ci dicono, ma come mai hai lasciato l'università, perché lasci il Monaldi per venire a Caserta? Perché la trovo una realtà veramente molto bella, e soprattutto una realtà in cui si può fare veramente tanto, ancora si può fare tanto. Diciamo che abbiamo appena iniziato a lavorare e abbiamo tantissimi progetti. Ecco, assolutamente una sfida molto stimolante, come vuoi, tutto ciò che porta il cambiamento, con un doppio modello, quello universitario e quello assistenziale, che vorrebbe portare proprio qui a Caserta, mi diceva prima. Sì, è chiaro che il mio sogno sarebbe quello, però io oggi, come mi ricordava il direttore Ferrante, come mi ha ricordato il direttore Ferrante più di una volta, oggi sei qui all'ospedale di Caserta, quindi oggi sono un ospedaliero puro, sono insedito, come molti dei miei colleghi, nella rete formativa della Luigi Van Vitelli, per cui da me cominciano a venire un po' di specializzanti. Più che altro il mio sogno è quello di riuscire, come probabilmente riusciremo a fare, di avere con me alcuni dei miei vecchi specializzanti, persone che ho formato, o che comunque si è formato nella mia struttura, la mia ex struttura, e che hanno quindi la capacità non solo di portare avanti un discorso di passistenziale, ma hanno anche possibilità di scrivere dei lavori, di mettere su carta quello che facciamo, e quindi produrre anche un po' tra virgolette di cultura. Però, ovviamente, al momento il mio sforzo è teso a migliorare tutto quello che viene fatto nel mio reparto, ci riesco anche perché i miei collaboratori sono delle persone veramente di notevole esperienza, e che probabilmente approfittando del fatto che c'è un po' di entusiasmo rinnovato, grazie alla mia presenza, stanno pensando che forse possono ancora fare qualcosa di più. Non posso chiedere molto di più, perché devo dire che si sacrificano già moltissimo, siamo solamente in quattro e facciamo veramente tanto, dall'emergenza alla pneumologia interventistica, alla fisiopatologia respiratoria, siamo veramente gravati da un grosso carico di lavoro. Ma speriamo di avere del personale a breve, quindi di cominciare a suddividerlo un po' di più. Assolutamente sì. Ci parli un po' del suo reparto, com'è composto, un reparto ovviamente che abbraccia poi tantissime altre specializzazioni, che lavora in sinergia con tantissimi altri reparti, immagino. Ma guardi, la pneumologia moderna oggi è un campo affascinante, non che non lo sia stato nel passato, però oggi abbiamo l'opportunità di fare veramente tante cose. Ci tengo a dire che la nostra UOC qui a Caserta è una delle poche che può fare tutto, mi spiego meglio. Al Monaldi ci sono i reparti di pneumologia e c'è ad esempio il reparto di pneumologia interventistica, di broncologia, è un reparto a parte, con una UOC a parte, con dei servizi a parte, così per esempio le unità di terapia intensiva respiratoria. Il nostro reparto è un reparto che può fare tutto, è assolutamente autonomo, cioè noi abbiamo sia il servizio di broncologia che il servizio di fisiopatologia respiratoria, quindi siamo in grado di fare una broncoscopia in maniera molto agile, la facciamo noi, non dobbiamo chiedere niente a nessuno, così come fare uno studio fisiopatologico di secondo livello. Abbiamo un laboratorio di fisiopatologia assolutamente ultra attrezzato, con cabine pletismografiche, vari spirometri, possiamo veramente fare uno studio della funzione polmonare di alto livello. In broncologia abbiamo introdotto l'EBUS, l'EBUS, lo dico per chi non lo sapesse, è la possibilità di effettuare un'ecografia endoscopica, quindi endobronchiale, con questo ecografo, è uno strumento, devo dire, meraviglioso, che mi ha fatto ricordare un po' le mie prime broncoscopie al Monal di 30 anni fa. è uno strumento veramente stupendo, dicevo, e dà la possibilità di vedere in ecografia le masse, in particolare l'infonodale, che sono poste attorno alla trachea, quindi nel mediastino, quindi si possono bioptizzare, trapassando, quindi attraversando, l'altra che è evitare che il paziente debba essere sottoposto ad esami più cruenti, molto invasivi, come ad esempio una mediastinoscopia. Si tratta di uno, se non il più avanzato, momento della pneumologia interventistica, e vorrei che si sapesse che a Caserta si fa questa cosa, quindi si può anche non arrivare, non andare a Napoli per essere sottoposti a questo tipo di tecnica. Abbiamo otto posti letto, nelle intenzioni del direttore c'è quello di ampliarla, noi per il momento siamo contenti di averne otto, perché con, ripeto, le forze lavoro che abbiamo oggi in campo, riusciamo in questo momento a fare un buon lavoro. ovviamente se avessimo più posti con poche persone dovremmo un attimino faticare per mantenere questo tipo di livello. Abbiamo incrementato i ricoveri, vorrei tanto invece incrementare la lista d'attesa, lavoro tanto per fare in modo che la gente cominci a fidarsi di noi, a capire che si può fare un'ottima pneumologia, c'è una buona assistenza qui a Caserta, e quindi evitare che si continui a pensare che solo al Monaldi si possano risolvere certe situazioni. Ma ritengo che lavorando e avendo pazienza possiamo arrivare a questo tipo di conclusione o comunque a instillare un dubbio venevolo nella popolazione casertana. Esattamente, anche noi con le nostre trasmissioni vi diamo una mano proprio a far conoscere ciò che fate ai cittadini che magari non sempre lo sanno. Ecco, come è difficile, ne parlavamo prima, gestire anche le urgenze che provengono appunto da un pronto soccorso come quello di Caserta, che è molto ricco? Io devo dire grazie all'amicizia, alla competenza che molti di noi abbiamo riscontrato qui con il dottore Paternosto, che è il responsabile del pronto soccorso, quindi grazie alla sua dedizione all'ospedale, anche alle capacità umane che abbiamo legato molto rapidamente ed è diventato un po' una sorta di scherzo il fatto che io faccia prima il giro nel mio reparto e poi subito dopo vado da Diego perché mi faccio il giro in pronto soccorso con lui e in medicina di emergenza e cerco di tirare, di portare nel mio reparto pazienti che abbiano ovviamente una patologia respiratoria. In questo modo noi otteniamo un risultato notevole perché lui si libera di ammalati e ovviamente libera dei posti che poi ovviamente con il turnover lui potrà dare di nuovo all'emergenza. Io al tempo stesso non rischio di avere i cosiddetti ricoveri inconguri e invece mi tiro, mi porto alle persone che hanno una patologia pneumologica che ovviamente va indagata, va trattata in un certo modo. In ogni caso il carico per tutto l'ospedale è molto elevato mi ricordo che quando sono arrivato qui a dicembre abbiamo subito avuto l'emergenza legata alle virosi, alle influenze e con la popolazione generale che sappiamo essere ormai abbastanza anziana abbiamo avuto delle polmoniti, veramente non ne avevo quasi mai viste tante al Monaldi in tanti anni, quindi abbiamo avuto un momento molto difficile ma mi pare che tutto sommato ce la siamo cavata abbastanza bene. Come dicevo prima ci tengo però a dire che la direzione è tutti quanti noi con questo spirito di collaborazione che non è solamente il mio, lo registro in tutti quelli che sono arrivati, dicevo un po' la nostra capacità di collaborare e un po' la dirigenza che ci spinge, stiamo non solo cercando di tenere a bada il fenomeno dell'emergenza e di trattarle in un certo modo ma di cominciare anche a fare un discorso culturale. Questo ospedale merita questo tipo di visione e credo che tutti stiamo lavorando in questa direzione. Ecco mi ha dato un assist importante, una mia curiosità più che altro sulle influenze che abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni, avere dei riscontri respiratori importanti è una percezione che appunto siano aumentati questi riscontri respiratori non solo negli anziani, abbiamo visto anche nei bambini molto spesso accade oppure è una cosa che c'è sempre stata e quindi è solo una nostra percezione esterna che si è aumentata insomma? No, io credo che i dati sono quelli che sicuramente si è aumentata da questo tipo di patologia. Non dimentichiamo una cosa che l'apparato respiratorio è quello di tutti gli apparati che più a contatto con l'ambiente esterno, quindi noi a parte la prevenzione che va fatta assolutamente quando la si può fare, per esempio fumo di sigaretta che va combattuto sempre e comunque e riduzione dei polluenti, però noi comunque siamo costretti a respirare continuamente e viviamo in un'era cosiddetta industriale e probabilmente per i noti fatti siamo anche inseriti in un contesto italiano e regionale dove soffriamo di più per una serie di motivi legati come sappiamo a sversamenti, quindi a polluenti di notevole importanza. A questo dobbiamo aggiungere il fatto che la popolazione è invecchia, la nostra popolazione è sempre più vecchia e con la vecchiaia la funzione polmonare è quella che viene a deteriorarsi prima di tutti. In una situazione del genere dove il nostro paziente anziano soffre di malattie respiratorie croniche ma anche cardiovascolari o per esempio di diabete, quindi noi sappiamo che oggi la moderna medicina ti permette di vivere più a lungo, ma il prezzo che paghiamo è che viviamo da malati, quindi in questo contesto le influenze che spesso non riescono, anche con la vaccinazione non riusciamo a proteggerci da tutti i ceppi o da tutto questo tipo di insulti, ovviamente determinano una riduzione di quelle che sono le nostre capacità di difesa e questo spesso determina la presenza di queste malattie polmonari molto importanti, polmoniti, non dimentichiamo che comunque storicamente la polmonite è quasi esclusivamente una patologia dell'anziano o del bambino, quindi dell'età estreme della vita, ma direi che quest'anno l'influenza ha fatto veramente parecchi danni. Eh sì, è stata molto violenta. Sempre dall'esterno poi c'è la percezione che siano in aumento anche i vari casi, anche nei bambini poi, almeno è ciò sempre che noi riusciamo a prendere dall'esterno e siano in aumento i casi di asma. L'asma è una patologia in forte aumento, già oggi a livello mondiale si calcono che siano almeno 300 milioni i malati di asma e la previsione è quella che nei prossimi 20-30 anni questo numero possa addirittura essere raddoppiato. È una patologia molto complicata dal punto di vista dell'epidemiologia, ad esempio, faccio solamente un esempio perché molti non pensano a questo, nel senso che comunemente l'asma viene associata all'allergia, nella percezione comune non esiste l'asma se non c'è la paretaria, se non ci sono gli acari, questo non è assolutamente vero e comunque né gli acari né la paretaria né le graminacee sono la causa dell'asma, sono dei fattori scatenanti come il reflusso gastroesofageo, come le virosi, come le infezioni respiratorie. E quindi dicevo, faccio un esempio, lo stile, il cambiamento dello stile di vita a cui abbiamo assistito negli ultimi anni in Italia, cioè i nostri bambini hanno cominciato ad avere e a comportarsi come i giovani americani, quindi molte ore davanti al televisore a giocare ai videogiochi con cibo spazzatura e si è visto come l'incremento del peso, oggi probabilmente i nostri bambini italiani sono quelli più obesi in Europa, l'aumento del peso va di pari passo con l'aumento dell'asma bronchiale. A questo poi si associa un po' quello che dicevo prima, le aree industrializzate, i bambini che vivono su strade dove c'è molto passaggio di auto, ad esempio, sono quelli che hanno di più l'asma. In Inghilterra, soprattutto nelle aree più industrializzate o le vecchie aree industrializzate del nord del paese, l'asma è una malattia molto, molto, molto frequente ed è una malattia molto grave perché è una malattia che ti rende inerme con questo affanno improvviso, accessionale, a volte che richiede l'ospedalizzazione e addirittura in alcuni casi l'intubazione e la ventilazione, quindi una patologia che bisogna tenere sotto controllo. Quello che io vorrei fare qui a Caserta è non solo trattare l'asma bronchiale ma istituire anche un ambulatorio che tratti l'asma grave. L'asma grave riguarda il 7-10% di tutte le asme, però è quello che assorbe più risorse ed è quello che in molti casi, o in molti più casi, può portare a morte il paziente. Quindi, per fortuna oggi abbiamo tanti farmaci a nostra disposizione, anche le terapie biologiche con gli anticorpi monoclonali che ci permettono di controbattere questa offensiva. Però, indubbiamente, tra le tante patologie respiratorie, l'asma bronchiale è quella che sembra avere l'ondamento epidemiologico più spiccato, nel senso purtroppo peggiorativo, nel senso che stanno aumentando notevolmente i casi. Ecco, ha detto una cosa importante, che l'allergia, diciamo così volgarmente chiamata, non è asma, però ha una forte allergia respiratoria. Con il tempo si può tramutare anche l'asma in un problema respiratorio più importante? L'asma non è allergia, io dicevo nel senso che l'asma è una malattia infiammatoria cronica caratterizzata essenzialmente da un forte stato di iperreattività bronchiale. Mi spiego, i nostri bronchi reagiscono a stimoli i più diversi, spesso con una broncocostrizione. Questo succede normalmente, il soggetto con asma da luogo ad una, appunto perciò si parla di iperreattività, ad una risposta esagerata a questi stimoli. Questi stimoli sono i più diversi. Alcuni dei pazienti con asma bronchiale sono atopici, soffrono di allergie e in questi soggetti purtroppo anche la stimolazione allergica che può essere quella, appunto come dicevamo prima, della paretare o degli acari, cioè di questi comuni allergeni, induce questo stato di bronchocostrizione. Però è una parte di asma che risente dello scatenamento della bronchocostrizione dovuta all'allergia. L'allergia va certamente combattuta, è noto ad esempio che vi sono dei soggetti che possono iniziare questa malattia, questo evento patologico con una semplice rinite o con un'oculorinite. L'oculorinite va combattuta, se è allergica va combattuta nei modi e nei tempi opportuni perché dall'arinite si può poi passare con il tempo all'asma bronchiare, quindi va sicuramente tenuta sotto controllo e in debita considerazione, cioè non si può liquidare l'arinite dicendo vabbè ma ti scorrerà un pochino il naso ogni tanto, va combattuta, va trattata. Esatto, oppure molto spesso si prende il famigerato antistaminico e si pensa di aver risolto insomma la problematica. Con il suo antistaminico non si risolve molto purtroppo. Si risolve l'effetto magari ma non la causa, assolutamente. Quanto sono importanti anche i fattori ereditari nelle patologie che riguardano ovviamente la respirazione e tutto ciò che concerne? Sono, in alcuni casi sono molto importanti, sicuramente nell'asma allergico e l'atopia e quindi una storia di patologie allergiche in famiglia è estremamente importante. Molto spesso possiamo già riscontrare nei bambini ad esempio l'eczema atopico che ci potrà, ci consente di fare una previsione per il futuro. Non sappiamo se poi questo bambino avrà sicuramente l'asma bronchiale o piuttosto che altre patologie di natura allergica, però in questo contesto vanno insedite queste familiarità. In effetti la familiarità è molto spiccata per l'atopia, quindi quando parliamo di asma sicuramente è un fattore determinante. Per il resto nell'ambito delle malattie respiratorie ritengo che i fattori esterni come ad esempio il fumo di sigaretta per la broncopneumopatia cronica o struttiva e per il cancro del polmone è il fattore patogenetico più importante e per qualche verso anche meglio così, nel senso che noi possiamo con politiche sia di tipo economico che culturale far capire alle persone che non devono assolutamente fumare. Assolutamente ed è importantissimo legandoci anche ovviamente agli stili di vita, importanti ne parlavamo anche prima, il fumo quindi assolutamente da evitare con tutte poi le sue declinazioni moderne. Assolutamente, adesso stanno venendo fuori degli studi che riguardano anche le cosiddette sigarette elettroniche e non sembrano essere dei risultati che consentono di dire vabbè può fumare tranquillamente la sigaretta elettronica. In effetti tutto quello che noi inaliamo in qualche modo può dare fastidio ad una struttura così complicata ma anche così fragile come quella polmonare e come dicevo prima così tanto esposta all'ambiente esterno. E quindi no, direi che il fumo è qualcosa che va combattuto e va combattuto come diceva lei inculcando nelle persone un diverso modo di vivere, un diverso stile di vita. Molti mi dicono la volontà, la volontà non serve a niente o serve a poco, la volontà serve a non farti fumare i primi giorni. Quello che ci vuole è una grossa motivazione e ritengo che la salute sia una motivazione più che sufficiente per smettere di fumare. Smettere di fumare deve essere inserito in un contesto più ampio, lo stile di vita significa appropriarsi del proprio corpo lunghe passeggiate, cercare di dimagrire, di mangiare un po' meglio e quindi di avere, ripeto, uno stile di vita completamente diverso da quello che è il classico stile di vita del fumatore. Si beve tanto caffè perché si vuole fumare, lo sappiamo tutti come funziona e questo comporta tutta una serie di cose ovviamente che hanno un esito tragico in molti casi. Ecco, anche perché purtroppo si inizia a fumare anche in giovanissima età, cosa ancora più grave insomma. Ricordo che quando i miei figli erano ai Salesiani e al Vomero, venivo spesso chiamato dall'allora preside dei Salesiani per fare questa lezione sul fumo per le classi, l'ultima classe delle medie e le varie classi del liceo e era una, si sa, i ragazzi sono ragazzi, quindi quando c'erano questo tipo di chiacchierate spesso loro quando si parlava di fumo venivano tutti e mi ricordo che venivo poi tartassato, cioè da domande perché e mi rendevo conto che molti di questi ragazzi facevano queste domande perché avevano già cominciato a fumare. Erano troppo esperti. Erano troppo esperti per... Purtroppo questa è una cosa... Bisogna agire con le politiche quando si è giovani perché poi è sempre più difficile togliere il vizio quando uno è più adulto, più grande. C'è un trend che è quello abbastanza risaputo che si può rinvenire negli studi epidemiologici, cioè per gli uomini, per il sesso maschile più aumenta il livello socioculturale e più questo individuo, questo signore tende a smettere di fumare o almeno ci prova seriamente. Per le donne esattamente il contrario. Più aumenta il livello socioculturale, più fumano queste donne ed è estremamente difficile farle smettere. Del resto i dati ci dicono anche un'altra cosa che il cancro del polmone, ma non solo il cancro del polmone, anche la stessa BP, cioè è in aumento nelle donne e questo aumento si noterà ancora di più negli anni a venire perché stanno scontando l'abitudine al fumo che hanno cominciato ad avere con il boom degli anni fine 50, inizi anni 60, con la liberazione, tra virgolette, femminile. Mi viene sorrido perché invece di prendere le cose buone, prendono questa cattiva abitudine che è stata per molti anni solo ed esclusivamente maschile. E quindi assisteremo a tante donne, tanto è vero che il cancro del polmone tendenzialmente sta cominciando ad avere numeri quasi pari a quelli del cancro della mammella, dell'utero, cioè ovviamente a cancri solo ed esclusivamente femminili. Anche perché è brutto perché molto spesso la sigaretta ha il sintomo comunque di status symbol, di noia, di gestualità e manca proprio quella consapevolezza del danno che si sta facendo poi alla propria persona. Sì, purtroppo la sigaretta ha un grandissimo alleato, è che i danni si vedono dopo 15-20 anni e uno non ha la percezione per molti, molti anni di, come dire, di subire un danno. E la sigaretta, lo sappiamo tutti, è legata, come diceva lei, a gestualità, a modi di vivere, a modi di mangiare, di stare assieme. E per alcuni è assolutamente improponibile il solo pensiero di poter staccarsi da questa abitudine. Per cui, dicevo, è molto meglio che i ragazzi. Però devo dire che la cosa è estremamente complicata, perché mi sono reso conto, poi viaggiando come molti medici fanno per congressi, eccetera, anche nei cosiddetti paesi molto civili, parlo della Norvegia, dell'Olanda, della Svezia. Io non vedo giovani che non fumano, anzi, in molti casi, e in questo per una volta dobbiamo dire che noi italiani siamo un po' all'avanguardia, molti non rispettano le norme antifumo, fumano dappertutto, mentre mi pare che in Italia, onestamente, si è molto digine rispettare la legge, almeno nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi forse in questo siamo noi un po' più avanti. Ma facevo questo cenno agli altri paesi europei, perché effettivamente combattere il fumo di sigaretta è veramente difficile, però bisogna sapere che è essenzialmente il fattore patogenetico più importante e decisivo nello sviluppo di tantissima patologia respiratoria e cardiovascolare che in molti casi porta a morte il paziente, quindi attenzione, ripeto, al fumo. E non ci stancheremo mai di ripeterlo. Quindi stili di vita, abbiamo detto, non fumare, ovviamente, belle passeggiate negli spazi verdi, una bella passeggiata anche a mare, magari, lontani dallo smog cittadino e dall'inquinamento, uno stile di vita regolare anche a tavola con il cibo, quindi a 360 gradi. Se mai ci si lascia un po' andare il sabato, la domenica, ci sta. Uno sgarretto, assolutamente. Stile di vita ed anche prevenzione, come abbiamo accennato già prima, importantissima, così come sono importantissime anche le iniziative organizzate proprio dall'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano, una tra le ultime, quella del 4 maggio, dove c'è stato un porte aperte proprio per gli screening gratuiti per quanto riguarda il suo reparto. Sì, abbiamo, grazie a un'iniziativa che abbiamo potuto fare questa giornata di sabato, siamo stati un po' sfortunati, nel senso che abbiamo avuto tantissimi accessi e abbiamo fatto oltre 80 esami, tra spirometrie, DLCO, quindi esami anche di secondo livello per quanto riguarda la funzione polmonare. Come dicevo, siamo stati un po' sfortunati perché c'è stato cattivo tempo quel giorno e quindi molti di quelli che poi sono più ammalati hanno preferito naturalmente non uscire di casa. Però parlavo con alcuni colleghi che avevano fatto la stessa manifestazione in altre parti d'Italia e a quanto pare la nostra è stata quella più seguita, più sentita. Quindi evidentemente c'è un bisogno sul territorio e qui un'attenzione per quanto riguarda questo tipo di patologie. E questi sono eventi che noi speriamo di ripetere frequentemente o comunque tante altre volte ancora con tante iniziative. Ecco, com'è importante la prevenzione? Da che età deve partire ovviamente se ci siano già delle patologie o nel caso non ci fossero? Ovviamente parliamo poi di esami non invasivi come la spirometria, quindi davvero sono tranquillamente da fare. Sì, è per fortuna un esame un po' come l'ecografia, non fa male, è semplice da fare, in mani esperte è un esame che si può fare in pochissimi minuti. È un esame molto importante che a cui dovrebbero sottoporsi tutti quelli che hanno fumato, che fumano, soprattutto se hanno 40 anni e più, perché se uno ha cominciato a fumare nell'adolescenza sono passati quei 20, 22, 25 anni e alcune patologie possono cominciare a venire fuori. Ovviamente i bambini che hanno avuto segni e sintomi compatibili con asma e poi l'hanno sviluppato, naturalmente devono fare la spirometria. È un esame molto semplice che ci fa subito verificare lo stato della ventilazione respiratoria. I deficit ventilatori sono essenzialmente due. Quelli che riguardano l'asma e la BPCO sono i deficit broncostruttivi, ci andiamo a valutare il grado di ostruzione delle vie aeree, mentre nel caso di altre patologie come le intestiziopatie polmonariche sono molto temibili, ma per fortuna meno frequenti. Invece abbiamo un deficit ventilatorio che riguarda il volume. Ripeto, un esame molto semplice, ci si può anche, e adesso stiamo cercando di portare avanti, non parlo solo di Caserta, ma come società italiana di mattina al prato respiratorio, di portare avanti questo progetto di dare, inserire nell'ambito delle strutture della medicina di base e anche un piccolo spirometro che possa dare una semplice curva flusso-volume, quindi un esame neanche di alto livello, ma che ti consente subito di avere un'idea di che cosa sta succedendo e di poter poi portare questi soggetti ad esami funzionali più importanti. Una cosa molto semplice che si può fare tranquillamente come è stato fatto sempre con l'elettrocardiogramma nei vari studi medici, insomma. Ecco, ho letto che ci sono persino anche delle app come Io Respiro che aiutano determinati tipi di pazienti, quindi veramente si sta facendo tantissimo. Sì, sta facendo tantissimo perché le patologie respiratorie gravano molto sulla qualità di vita del paziente, patologie come l'asma bronchiale o come la broncopneumotria cronico-ostruttiva, la broncopneumotria cronico-ostruttiva poi rispetto all'asma bronchiale è una malattia cronica persistente, quindi non accessionale come l'asma bronchiale. paradossalmente un soggetto che non abbia un'asma persistente può anche avere pochissimi attacchi nel giro nel corso di un anno, quindi stare bene per moltissimi giorni e avere una vita qualitativamente assolutamente normale. Il soggetto con BPCO ha una patologia bronchial-ostruttiva persistente, questo vuol dire che in qualche modo la sua capacità di respirare è perennemente ogni secondo della sua vita minata, alterata, quindi c'è questo stato di dispnea, di affanno, non è assolutamente facile vivere in questo modo. Quindi, ripeto, devono al più presto effettuare certi esami quando avvertono dei campanelli d'allarme, come per esempio non riuscire a fare le scale come si faceva un tempo, o quando si ha spesso questa spettorazione cronica o quando ci si stanca molto più facilmente rispetto agli altri che hanno la stessa età. In queste condizioni avere anche anamnesticamente la conoscenza di un'abitudine al fumo in questi signori fa sospettare malattie di questo tipo. La prevenzione deve venire da piccoli, quindi come dicevo, per l'asma bronchiale è importante non ingrassare. Ci sono proprio dei dati, ripeto, molto significativi. Con l'aumento del peso aumenta l'asma, con la riduzione del peso si riduce l'asma e si riduce la gravità dell'asma. Quindi oggi è importante intercettare tutte queste patologie con un corretto stile di vita sin da bambini. Assolutamente, poi è tutto collegato anche all'attività cardiaca, quindi ovviamente è tutto fortemente correlato. Parliamo anche di lei, visto che siamo in chiusura. Sogni nel cassetto, cosa si augura per il suo reparto nei prossimi mesi? Io sogno una serie di iniziative e ritengo che ci siano le possibilità di realizzarli. C'è, ripeto, una dirigenza molto attenta che lavora con semplicità ma con decisione tutti i giorni accogliendo le nostre richieste. Il direttore generale ci riceve molto frequentemente e quasi sempre senza che noi chiediamo un appuntamento o un preavviso, quindi è molto attento. Quello che è il mio sogno principale è quello di avere un reparto che dia fiducia alla popolazione, agli utenti, ai casertani e a quelli della provincia di Caserta. Certo, il Monaldi resterà sicuramente un luogo, un tempio dove la medicina respiratoria ha avuto un grande passato, c'è un grande presente, ma noi possiamo, siamo in grado di poter fare le stesse cose. Quindi il mio sogno è che ci si fidi di noi, che si possa dire, vabbè, ma possiamo restare a Caserta, non c'è bisogno di arrivare fino a Napoli. E con il tempo vogliamo incrementare queste attività, la pneumologia interventistica, fare la toracoscopia medica, attrezzare alcuni ambulatori in modo che ci si possa anche occupare di malattie cosiddette rare, come ad esempio la fibrosi polmonare, le bronchiectasie, le bronchiectasie non fibroticocistiche e avere anche una buona intensivistica, quindi avere la possibilità di trattare la patologia respiratoria, la sindrome dell'insufficienza respiratoria, sia acuta che cronico-reaculizzata e anche nei soggetti con malattie neuromuscolari. Ci vogliono risorse, ci vuole tempo, tanta pazienza, uomini che naturalmente, non è che sappiano, ma che abbiano la possibilità di fare queste cose. Ripeto, come dicevo prima, per il momento siamo ancora pochi, ci accontentiamo per il momento di quello che abbiamo, però stiamo già, come dire, mettendo mano alla realizzazione di questi sogni. Tanto lavoro, vedremo come andrà a finire. Assolutamente, noi stiamo in chiusura, un ringraziamento veramente grande al professor Antonio Ponticello, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie anche ai nostri telespettatori, vi do appuntamento ovviamente sempre a lunedì prossimo con Focus Sanità. Buona serata. Grazie a tutti.